Perché scegliamo sempre i doveri in base alle nostre preferenze? Se un dovere non ci fa emergere, ci lamentiamo, ci opponiamo e ci limitiamo a fare il minimo. State affrontando anche voi una situazione simile? Questa testimonianza esperienziale vi mostrerà come correggere la concezione errata che avete del vostro dovere, in modo da compierlo bene. Nel 2020, ho accolto l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni. Ho iniziato a partecipare alle riunioni. Chiedevo ai fratelli e alle sorelle ciò che non capivo. Condividevo la mia comprensione delle parole di Dio e incoraggiavo anche gli altri a farlo. Una volta, la capogruppo mi ha detto «Condividi molto bene e hai una buona comprensione. Ti andrebbe di ospitare qualche incontro». Non potevo crederci. Condurre delle riunioni. Era da tempo che volevo farlo. Quando credevo nel Signore, avevo sempre invidiato chi predicava. Volevo persino diventare un pastore, per poter stare a leggio, pronunciare sermoni come loro e conquistare così l'ammirazione e la lode degli altri. Non potevo credere che il mio sogno si fosse realizzato. Tra i fratelli con cui mi riunivo, ero l'unica a cui era stato chiesto di condurre. Mi sentivo migliore di tutti gli altri e anche fortunata, così ho accettato senza esitare. Ho deciso che mi sarei preparata per le riunioni in anticipo e avrei risolto i problemi altrui appena si presentavano. Se non ci fossi riuscita, avrei chiesto aiuto alla capogruppo. Lei, tempo dopo, mi ha detto che conducevo molto bene e che aveva ancora più fiducia in me. Mi sono sentita orgogliosa. Evie, leader della chiesa, mi ha poi assegnata per esigenze di lavoro a condividere il Vangelo. Per lo più, dovevo invitare le persone ad ascoltare i sermoni. Non riuscivo ad accettarlo, perché ritenevo che fosse un incarico di minore prestigio. Chi ospita riunioni è considerato come un leader, una posizione di guida in cui poter distinguermi. Mentre invitare le persone ad ascoltare i sermoni era un lavoro dietro le quinte che nessuno avrebbe notato. Dentro di me mi lamentavo. Perché mi hanno assegnato questo lavoro? Non sono abbastanza brava. Non riuscivo a capire. Ho sviluppato un pregiudizio verso la leader, credendo che non mi stimasse. Lei mi ha detto che condividere il Vangelo è un incarico di Dio e che tutti dovrebbero svolgerlo. A malincuore mi sono sottomessa, ma volevo sempre tornare a condurre le riunioni e non mettevo il mio cuore nel condividere il Vangelo. Ho persino pensato che quello non fosse il lavoro giusto per me e che avrei potuto dare di più conducendo riunioni. La leader ti ha assegnato l'incarico per esigenze lavorative. Voler solo condurre le riunioni significa essere selettivi riguardo al dovere e mancare di sottomissione. E ti sei accorta di essere in uno stato sbagliato? Beh, no. All'epoca volevo solo condurre le riunioni. Ma con mia sorpresa, un giorno un leader superiore mi ha detto «Ho una buona notizia. Sei stata selezionata come leader della chiesa». Sono rimasta sconvolta. Potevo assumere un ruolo così importante se ancora non capivo la verità. Ma sapevo che era l'esaltazione di Dio e ho accettato. In seguito, la leader ha detto che mi sarei per lo più occupata dell'evangelizzazione. Sentendo evangelizzazione, ho subito pensato a un dovere meno importante. Condividendo con chi cercava la verità, potevo spiccare. Dentro di me ho ripreso a lamentarmi e opporre resistenza. Non volevo quel lavoro. In seguito, nel mio dovere, pensavo solo a condurre le riunioni, trascurando del tutto l'evangelizzazione. Un leader superiore mi ha chiesto del lavoro del Vangelo, ma non ero aggiornata e non ho saputo rispondere. Ed è il responsabile accettare un dovere e poi trascurarlo. Sì. Espandere il Vangelo è il lavoro più importante della casa di Dio. Non collaborarvi è la negligenza più grave che un leader possa commettere. È vero. La chiesa non stava ottenendo buoni risultati in merito perché, per la mia negligenza, fratelli e sorelle non sapevano come diffondere il Vangelo. Mi sentivo in colpa. Allora, ho parlato del mio stato con i leader e loro hanno condiviso con me su come risolvere la situazione. Mi hanno anche chiesto di concentrarmi di più in futuro sul lavoro del Vangelo. Mi sentivo davvero in colpa. Come leader, dovevo farmi carico del lavoro del Vangelo. Ma non mi assumevo quella responsabilità e così abbiamo ottenuto scarsi risultati. Rendermene conto mi ha fatta stare malissimo. Poi ho letto un passo della parola di Dio che mi ha aiutata a comprendere meglio me stessa. Che atteggiamento dovresti assumere verso il dovere che sia corretto e conforme alla volontà di Dio? Intanto, non puoi sindacare su chi ne dia disposizione, su quale sia il grado del leader che lo assegna. Devi accettarlo da Dio. Non puoi analizzarlo. Devi accettarlo da Dio. È una condizione. Inoltre, qualunque sia il tuo dovere, non fare distinzioni tra alto e basso livello. Supponiamo che tu dica, sebbene questo compito sia un incarico da parte di Dio e l'opera della casa di Dio, se lo svolgo io, gli altri potrebbero guardarmi dall'alto in basso. Altri svolgono mansioni che li mettono in risalto. mentre questo compito mi costringe a darmi da fare dietro le quinte. È un'ingiustizia. Non svolgerò questo dovere. Il mio dovere deve essere qualcosa che mi permetta di distinguermi e di farmi un buon nome. O in ogni caso, devo comunque trarne beneficio e sentirmi fisicamente a mio agio. È forse un atteggiamento accettabile? Fare gli schizzinosi significa non accettare ciò che proviene da Dio, scegliere secondo le proprie preferenze. Non è un'accettazione del tuo dovere, è un rifiuto del tuo dovere, una manifestazione di ribellione. Questo atteggiamento schizzinoso è adulterato dalle tue preferenze e dai desideri. Quando pensi ai benefici, alla tua reputazione e così via, il tuo atteggiamento verso il dovere non è sottomesso. Quale atteggiamento dovresti assumere verso il tuo dovere? In primo luogo, non devi analizzarlo, né pensare a chi te l'ha assegnato. Devi invece accettarlo da Dio, perché è un dovere affidatoti da Dio, e dovresti obbedire alle Sue disposizioni e accettare il tuo dovere che proviene da Lui. Inoltre, non devi fare distinzioni fra alto e basso livello, né pensare alla Sua natura, se ti ponga in risalto o no, se venga svolto in pubblico o dietro le quinte. E vi è anche un altro atteggiamento, obbedienza e cooperazione attiva. Amen. Amen. Dopo aver letto le parole di Dio, ho capito che non esistono doveri più o meno importanti. Agli occhi di Dio, qualunque lavoro svolgiamo nella Chiesa è il nostro dovere di esseri creati. Non dobbiamo distinguere i doveri per importanza né considerarli come affidati da una persona. Sono invece le responsabilità di Dio che dobbiamo adempiere. Giusto. Alcuni doveri possono non piacerci perché non aiutano a distinguerci, ma sono necessari alla Chiesa. Dobbiamo sottometterci e farli al nostro meglio. Esatto. Riflettendo su me stessa, ho visto che davo sempre la priorità alle mie preferenze, scegliendo solo lavori che mi avrebbero fatta spiccare. Ogni volta che un incarico non mi piaceva o non aiutava a distinguermi, non lo accettavo. E dentro resistevo e mi lamentavo. Quando mi hanno incaricata di condurre le riunioni, ero felice poiché mi piaceva, mi soddisfaceva e mi permetteva di distinguermi. E così mi impegnavo a fondo in quel dovere. Quando mi hanno affidato l'evangelizzazione, invece, ero risentita perché quel dovere non aiutava a distinguermi. Pensavo che la leader non mi stimasse ed ero così delusa e triste che ho persino sviluppato un pregiudizio nei Suoi confronti. Ero selettiva a riguardo ai doveri che assumevo, non li accettavo come provenienti da Dio e non mi sottomettevo davvero. Avevo un concetto errato del dovere. Nell'evangelizzazione ero superficiale e la trascuravo. Per questa ragione, i risultati del lavoro sono stati scarsi e tardivi. Sì. Ho compreso il mio errore. Non importava se il mio dovere mi piacesse o meno. Purché fosse necessario al lavoro della chiesa, avrei dovuto sottomettermi e fare del mio meglio. Prima di tutto dovevo pensare a questo e invece valutavo in base alle mie preferenze. Ero davvero priva di obbedienza e lealtà. Sì, è vero. Ero felice di aver riconosciuto la mia corruzione grazie alle parole di Dio. E ho preso una decisione. Mi sarei sottomessa a qualunque dovere assegnatomi. Amen. Lode a Dio. Ho acquietato i pensieri e mi sono chiesta perché se un dovere soddisfa i miei desideri e preferenze e mi permette di distinguermi, ringrazio Dio. Mentre invece, se non mi piace, non sono disposta a compierlo. E addirittura mi lamento e mi ribello. Ho trovato la risposta nelle parole di Dio. Il debole che gli anticristi hanno per lo status e il prestigio supera quello delle persone comuni ed è qualcosa all'interno della loro indole ed essenza. Non è un interesse temporaneo nell'effetto transitorio dell'ambiente. È qualcosa all'interno della loro vita, delle loro ossa, e dunque è la loro essenza. Vale a dire, in tutto ciò che un anticristo fa, considera prima di tutto lo status e il prestigio personale e nient'altro. Un anticristo considera lo status e il prestigio come la propria vita, nonché l'obiettivo dell'intera esistenza. In tutto ciò che fa, le priorità sono cosa ne sarà del mio status, cosa ne sarà del mio prestigio. Eseguire questo compito riuscirà ad accrescere il mio prestigio? Riuscirà ad elevare il mio status nella mente delle persone? Queste domande sono le prime cose a cui pensa. Ciò dimostra ampiamente che questa persona possiede l'indole e l'essenza degli anticristi. Altrimenti non prenderebbe in considerazione questi problemi. Si può dire che agli occhi di un anticristo, lo status e il prestigio non sono un requisito aggiuntivo, né tantomeno qualcosa di estraneo a cui rinunciare. Queste cose fanno parte della natura degli anticristi. Sono nelle loro ossa, nel loro sangue. Sono innate in loro. Gli anticristi non sono indifferenti a status e prestigio. Non è questo il loro atteggiamento. Allora, qual è? Lo status e il prestigio sono intimamente legati alla loro vita e alla loro condizione di tutti i giorni, a ciò che si sforzano di ottenere ogni giorno. E così, per gli anticristi, lo status e il prestigio sono la vita. A prescindere dal modo in cui vivono e anche dall'ambiente in cui si trovano, a prescindere dal lavoro che svolgono, da cosa si sforzino di ottenere, da quali siano i loro fini o la direzione della loro vita, tutto ruota attorno all'avere una buona reputazione e una posizione elevata. E questo obiettivo non cambia. Non riescono mai a mettere da parte tali cose. Questo qui è il reale volto degli anticristi. È questa la loro essenza. Amen. Attraverso le parole tormenta al punto che riescono a malapena a vivere. Considerano la reputazione e il prestigio un'ancora di salvezza. Sì, giusto. Io avevo la stessa indole. Volevo sempre ottenere una buona reputazione, il prestigio e la lode altrui. Volevo sempre essere la preferita dei miei genitori tra i miei fratelli e sorelle e risultare la più popolare anche tra i miei amici. A scuola, volevo l'approvazione degli insegnanti e poi, credendo nel Signore, volevo essere come i predicatori per pronunciare sermoni davanti alle folle e guadagnare l'ammirazione di tutti. Dopo aver accolto l'opera di Dio degli ultimi giorni, ho perseguito le stesse cose. Pensavo che guidando le riunioni avrei ottenuto la lode degli altri e la stima dei leader. Così, quando sono stata incaricata di condurre riunioni, ero felicissima e mi piaceva la sensazione di essere rispettata e lodata. Invece, condividere il Vangelo era un dovere dietro le quinte che nessuno avrebbe notato. Non l'avrei accettato neanche se mi avessero nominata leader. Per me era un lavoro poco importante e continuavo a chiedermi quando sarei tornata a condurre le riunioni. Quando i miei desideri non sono stati soddisfatti, ho iniziato a essere superficiale nel lavoro, portando perciò a scarsi risultati nell'evangelizzazione. In passato, nelle preghiere, mi impegnavo a dare il massimo nel lavoro, ma non ero onesta. Stavo ingannando Dio. Svolgevo il mio dovere solo per mantenere prestigio e reputazione e ottenere l'ammirazione di tutti, non per soddisfare Dio. Stavo rivelando un'indole da anticristo e percorrendo una via di resistenza a Dio. Grazie alla tua comunione, ho imparato che cercare il prestigio è un cammino di resistenza a Dio. Sì. Non c'è da stupirsi che Dio l'odi. Non è la retta via. Sì, è vero. Capirlo mi ha spaventata. Ho avvertito il pericolo. Ho pregato Dio in silenzio. Sono in una situazione pericolosa. Cercando il prestigio, ho preso la via sbagliata. Sono pronta a pentirmi. Ti prego, dammi la tua salvezza. Amen. Amen. Un passo della parola di Dio mi ha aiutata a correggere la mia visione errata del lavoro evangelico. Mhm. Dio Onnipotente dice Avverto tutti e faccio sapere loro che diffondere il Vangelo non è la vocazione speciale di un singolo tipo o gruppo di persone. È la vocazione di ogni persona che segue Dio. Perché dovrei far capire questo aspetto della verità agli uomini? E perché hanno bisogno di saperlo? Perché diffondere il Vangelo è la missione e la vocazione che tutti gli esseri creati e tutti i seguaci di Dio, siano essi vecchi o giovani, uomini o donne, devono accettare. Se questa missione giunge fino a te e ti richiede di spenderti, di pagare un prezzo e addirittura di offrire la vita, cosa dovresti fare? Dovresti accettarla in quanto tuo dovere. Questa è la verità ed è ciò che dovresti capire. Non si tratta di un semplice frammento di dottrina. È la verità. Cosa lo rende la verità? Il fatto che, a prescindere dal trascorrere del tempo o da come cambino l'era, la geografia e lo spazio, diffondere il Vangelo e rendere testimonianza a Dio sono eternamente cose positive. Il loro significato e il loro valore sono immutabili. Non cambiano con il passare del tempo o con il luogo geografico. Esistono eternamente e questo è ciò che ogni essere creato dovrebbe accettare e mettere in pratica. Questa è la verità eterna. Alcuni dicono non sto compiendo il dovere di diffondere il Vangelo. Tuttavia, la verità della diffusione del Vangelo è qualcosa che le persone dovrebbero comprendere. Poiché si tratta di una verità appartenente al regno delle visioni, tutti i credenti in Dio devono comprenderla. È una cosa che radica la fede in Dio ed è vantaggiosa per l'ingresso nella vita. Inoltre, indipendentemente dal tuo dovere, avrai a che fare con i non credenti. Quindi, hai la responsabilità di diffondere il Vangelo. Una volta compresa la verità sulla diffusione del Vangelo, nel tuo cuore capirai. La mia vocazione è predicare la nuova opera di Dio e il Vangelo della sua opera per salvare gli uomini. a prescindere a prescindere dal luogo o dal momento, a prescindere dalla mia posizione o dal mio ruolo o dal dovere che sto compiendo attualmente, ho l'obbligo di andare a diffondere la buona notizia della nuova opera di Dio. È mio dovere trasmetterla ogni volta che ne ho l'opportunità o il tempo. Attualmente, questi sono forse i pensieri della maggioranza delle persone? Cosa pensa la maggioranza delle persone? Al momento, ho un dovere fisso. Sono impegnato a studiare e ad approfondire una professione e una specializzazione fisse. Dunque, la diffusione del Vangelo non c'entra assolutamente nulla con me. Che tipo di atteggiamento è questo? È un atteggiamento di fuga dalle proprie responsabilità e dalla propria missione. Un atteggiamento negativo e una persona del genere non ha a cuore la volontà di Dio e gli disobbedisce. Se chiunque tu sia non ti assumi il fardello della diffusione del Vangelo, non stai forse mostrando una mancanza di coscienza e di ragione, se non sei vigoroso e fattivo nella collaborazione, nell'assunzione della responsabilità e nella sottomissione, allora stai soltanto reagendo negativamente e passivamente. È un atteggiamento che non devi assumere. In qualunque dovere tu sia impegnato e qualunque professione o specializzazione il tuo dovere richieda, uno degli aspetti più importanti tra tutti i frutti del tuo lavoro è la capacità di diffondere e testimoniare il Vangelo dell'opera di Dio per salvare l'umanità. Questo è il minimo che un essere creato dovrebbe fare. Amen. Leggendo le parole di Dio ho pianto sentendomi in colpa perché mi hanno mostrato chiaramente che condividere il Vangelo è un incarico di Dio e un dovere è una missione irrinunciabili. All'interno della chiesa qualunque dovere svolgiamo il nostro obiettivo finale è lo stesso diffondere il Vangelo. Amen. Giusto. Quanto a me non mi piaceva quel lavoro e pensavo sbagliando di non contribuire all'evangelizzazione. Credevo che guidando le riunioni e irrigando fratelli e sorelle avrei svolto il mio dovere e soddisfatto Dio. Non comprendevo l'importanza del lavoro del Vangelo. Esatto. Sì. Solo allora ho capito che diffondere il Vangelo è l'intenzione urgente di Dio. L'evangelizzazione è l'opera di salvezza dell'umanità, una testimonianza di Dio che permette alle persone di comprendere la Sua opera e di essere salvate. È un lavoro ricco di significato. Giusto. Ma io non avevo a cuore di testimoniare Dio e non mi assumevo alcun fardello nel mio dovere. Quando mi hanno assegnata a diffondere il Vangelo ho resistito e deluso le mie responsabilità. Non avevo coscienza né ragionevolezza. Se nessuno mi avesse invitata ad ascoltare i sermoni, non avesse condiviso il Vangelo con me e testimoniato Dio, non avrei mai sentito la Sua voce e non avrei accolto l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni. Sì, è vero. Se non avessi contribuito a condividere il Vangelo e mi fossi limitata al minimo, Dio non mi avrebbe considerata una Sua credente e seguace, ritenendomi priva di coscienza e di umanità. Mi sono sottratta alle mie responsabilità nella condivisione del Vangelo, volendo persino abbandonare quel lavoro per dedicarmi a condurre le riunioni. Ripensandoci, è stato un grosso errore. Sì, è vero. Ho ringraziato Dio onnipotente per avermi fatto comprendere la verità e riconoscere la mia corruzione. Volevo pentirmi. Qualunque lavoro mi fosse stato assegnato, avrei condiviso il Vangelo. Lode a Dio. Dio sia lodato. Ho trovato la Tua comunione davvero toccante. Prima non mi accorgevo di quanto fossi superficiale nel condividere il Vangelo. Ripensandoci, mi sento davvero in colpa. Condividere il Vangelo è un lavoro importante, ma io non mi assumevo la responsabilità di quel lavoro e della vita altrui. Sono stata incosciente. In futuro, voglio condividere il Vangelo al meglio. Dio sia lodato. Sia lodato Dio. Da allora, ho iniziato a concentrarmi sulla condivisione del Vangelo, ma non avevo molta esperienza. Ed era una sfida per me condividere con diversi tipi di persone. Potevano rispingermi, oppure potevo incontrare difficoltà di ogni tipo nell'evangelizzazione, ma non potevo mollare. Sì. Giusto. Ho pensato alle parole di Dio. In qualunque dovere tu sia impegnato e qualunque professione o specializzazione il tuo dovere richieda, uno degli aspetti più importanti tra tutti i frutti del tuo lavoro è la capacità di testimoniare il Vangelo dell'opera di Dio per salvare l'umanità. Questo è il minimo che ogni essere creato dovrebbe fare. Amen. Questo passo mi ha davvero motivata. Il dovere assegnatomi era una responsabilità e adesso ero pronta a sottomettermi. Amen. Ho capito che l'evangelizzazione è molto importante e volevo dare il massimo nel condividere il Vangelo. Lode a Dio. Ho ringraziato Dio per aver predisposto quell'ambiente per me. Anche nelle difficoltà sapevo che se lo avessi pregato sinceramente Dio mi avrebbe guidata. Esatto. Ho ripensato alla storia di Noè. Egli non dubitò quando sentì le parole di Dio e non considerò i propri interessi. Voleva solo soddisfare la volontà di Dio e costruire l'arca seguendo gli ordini e fece del suo meglio per condividere il Vangelo. La sua esperienza era motivante. Volevo compiere bene il mio dovere come Noè e sottomettermi alle disposizioni di Dio. Sia lodato Dio. Lode a Dio. Ora so come approcciare la condivisione del Vangelo e svolgere il mio dovere. Desidero di meno prestigio e reputazione. Questa è la salvezza di Dio. Esatto. Lode a Dio onnipotente. Sia lodato Dio. Dio sia lodato. Sia lodato Dio. Grazie a tutti.